Sapori e mestieri, mostra mercato di dolci e artigianato artistico, giunge al secondo giorno della sua sedicesima edizione. La giornata di oggi si è aperta con un laboratorio particolare dedicato all'olio d'oliva applicato nelle ricette per dolci. C'è stato poi un altro momento dedicato ai bersaglieri che hanno animato la giornata. Senza dimenticare chiaramente il contributo delle scuole con un altro concerto. Il pomeriggio è stato invece un momento per fare turismo, turismo che parte dal territorio con il coinvolgimento di alcune attività di Via Roma. Noi qui in questa via in Via Roma siamo molto molto unite, prima di tutto ci piace fare festa, secondo luogo ci piace ricreare l'atmosfera che questa via poteva avere un tempo. Io sono nata e cresciuta qui e qui ci giocavo avanti e indietro, tutti i fondi erano aperti e trovavi qualsiasi tipo di negozio. Noi che ci siamo siamo lo zoccolo duro e facciamo festa quando possiamo e ci piace accogliere tutti quanti. Sapori e mestieri serve anche un po' per tirare le fila dell'anno ma in questo caso non parliamo solo del 2022. Arriva anche il momento per cercare un po' di capire tutto quello che è successo negli ultimi due anni. Due anni molto difficili segnati prima dal Covid e ora dagli effetti della guerra in Ucraina. Abbiamo fatto il punto con il direttore di Confartigianato la Spezia Giuseppe Menchelli. Questa ormai fa parte della tradizione di questa città e è un po' l'inizio con fine novembre, è l'inizio di quel periodo che poi si conclude che precede le feste di Natale e quindi io spero che sia di buon auspicio per tutti.